9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go Tottenham Park! Oh shit, Motren! Callan verrattendo... Vai, schipa, 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 schipa tutti. Skipa tutti. eri, venoci. Va, v Vai 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 Veloci 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 No. погuale Sò un co! Jonem guh il che ne è combinato eh lo so scusa no 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 nooo dai scarta tutto dai veloci guarda come li stanno a magna corri veloci veloci ma che schifo comunque no l'84 mandalo su però ho fatto molestabilità c'è mascio di ho aperto aperto quei crediti che importa solo dai che non c'è 25 vabbè ho capito ma comunque che schifo mamma mia che schifo non 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo ammorsiati. Questo è il pacco per il più brutto della vita. Più doloroso della vita. E io che non c'è solo. Come so, c'è la fanno un vuoto. No, vabbè, anche 3. Io ho avuto 100.000. Eh, diciamo che i 110.000 anche. No. No. Perché quello è il maglio interno. Maglio di trasferimento. Non passo. No. 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 Grazie. La live finisce qua. Bella.